Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. In una trama intricata che si snoda nei corridoi della giustizia, Leonardo Apash la russa, figlio del presidente del Senato, si trova al centro di un'inchiesta che lo vede accusato di violenza sessuale insieme a un suo amico, il DJ Tommaso Gilardoni. L'accusa nasce da un episodio con un'ex compagna di scuola. Durante un interrogatorio serrato in procura a Milano, la russa mantiene fermo il suo racconto, insistendo sulla consensualità del rapporto, eco di una versione che non ha mai abbandonato. Parallelamente, anche Gilardoni ribadisce la stessa linea difensiva. I legali di la russa, con un velo di ottimismo, si dicono soddisfatti del procedimento processuale, lasciando trasparire una fiducia velata nella situazione del loro cliente. Nel frattempo, la scena giudiziaria si prepara a nuove mosse. Un'indagine tossicologica sulla presunta vittima prevista a inizio gennaio e un'analisi del DNA maschile trovato sugli indumenti della ragazza. In un tentativo di chiarire se appartenga alla russa o a Gilardoni. Questo enigmatico caso continua a tenere con il fiato sospeso, mentre si attende il prossimo capitolo di questa saga giudiziaria. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.